Buonasera, io sono Alessio Picchiani e sono il conduttore del podcast ufficiale di Uwine, il primo festival del vino umbro qui in diretta da Piazza della Repubblica. Oltre a me ci saranno tanti altri esponenti di cantine che sono venute qui in questa manifestazione per proporci quello che appunto lo spirito della loro attività. Il primo ospite di questo podcast viene direttamente dalla tenuta Baroni Campanino, siamo con Mattia Di Bartolo, benvenuto Mattia. Grazie, grazie mille. Allora, sono Mattia Di Bartolo, sono il ragazzo che in pratica gestisce la cantina sotto il rappresentante legale che si chiama Andrea Caracciolo. In pratica io seguo tutta la parte produttiva della cantina insieme a altre tre persone che stanno insieme con me in cantina e poi seguo tutta la parte burocratica della cantina. In più c'è un consulente enologo da fuori che ci aiuta per quanto riguarda le ricette, per quanto riguarda la produzione del vino. Come ci sta illustrando immagino che la cantina sia un luogo molto complesso dal punto di vista delle figure che orbitano al suo interno per i vari reparti. La cosa che mi interessa, con cui mi interessa aprire questo podcast è un po' la parte storica, vorrei accennerla perché comunque non è scontata, secondo me è anche molto interessante, perché la famiglia Campanino, da cui prende il nome la vostra tenuta, era un'antica e nobile famiglia del regno di Napoli. Molto interessante questa storia, questo regresso, per poi parlare un pochino del luogo in cui si estende la cantina. Siamo in una località molto suggestiva, che è il Monte Subasi, ad un'altitudine importante per un'attività vinicola. Esattamente, allora ci troviamo fra i 700 e 900 metri d'altezza, oltre ad avere la cantina abbiamo anche un birrificio che è il birrificio San Biagio e altri due agriturismi che sono le case e la tavola dei cavalieri. Quindi noi produciamo in pratica vino, birra e poi abbiamo anche un allevamento a mille metri di suini neri, da cui produciamo anche i salumi. Oltre a questo, la cantina nasce nel 2008, da questa famiglia nobiliare della Campanino, che si sono ritrovati dei terreni lì su in montagna, hanno detto e hanno deciso quindi di sfruttarli. Quindi, sfruttandoli così, hanno deciso di fare varie tipologie di vino. Queste tipologie di vino le hanno deciso di fare in biologico, in biodinamico e in naturale, ovvero biologico, quindi senza utilizzo di prodotti chimici all'interno dei campi, quindi dei vari vigneti. Biodinamico, a seconda dei movimenti della luna, si decideva se fare gli spalci o non spalci, oppure se imbottigliare o non imbottigliare, se fare travasi o no. E poi naturale, vuol dire non utilizzare nulla di chimico all'interno della cantina. Quindi in pratica tutto ciò è stato fatto per rispettare l'ambiente attorno a noi, ovvero il Monte Subasio, dove ci sono un sacco di boschi, un sacco di animali e quindi rispettare l'ambiente per loro. A proposito di rispetto dell'ambiente c'è anche una tecnica, corregimi se sbaglio, che è quella della viticoltura di tipo eroico, che praticamente si basa proprio sul principio dello sfruttare questa altitudine, la pendenza naturale, in questo caso nel Monte Subasio. Esatto, infatti noi facciamo anche una viticoltura eroica che è dovuta a, in pratica, i nostri bianchi, l'inizio del filare inizia a 700 metri e finisce a 600 metri, però con una pendenza del 60%, quindi è molto difficile sia entrare con i mezzi, sia meccanizzare il tutto, quindi diventa tutto manuale, quindi di lì in pratica ci metti il triplo della fatica per produrre una bottiglia di vino e quindi vengono poi prodotti ancora più particolari. Un accenno, chiaramente, qui siamo anche per conoscere un pochino più da vicino quello che è il mondo del vino in generale, della cultura enologica. Importante, hai citato prima tre tecniche, dal biodinamico alla biologica alla naturale, com'è possibile scegliere una di queste tecniche? Cioè si sceglie oppure si applica in base a quello che è una tendenza del territorio, alla strumentazione che si ha a disposizione? No, io penso che quello dipende da cantina a cantina, cioè noi siamo una cantina che vogliamo rispettare l'ambiente attorno a noi e quindi abbiamo scelto di fare il naturale, quindi di rispettare proprio l'ambiente attorno a noi, poi ci sono altre cantine che fanno convenzionale, quindi usano prodotti chimici e quindi preferiscono così, cioè secondo me è una scelta dell'amministrazione della cantina che dice guarda io preferisco fare il vino così e quindi lo voglio ottenere così perché per me quando bevo una bottiglia di vino o un calice è più genuino. Quindi diciamo riguarda proprio la filosofia di ogni singola cantina, in questo caso questi tre tipi di lavorazione ci permettono di ottenere un risultato molto naturale, in modo tale che si privilegi la qualità e anche la natura del territorio. Tu sei un tecnico del vino, possiamo dire così. Per quanto riguarda la natura del territorio, quanto incide il territorio appunto del Monte Subasio sul prodotto poi finito, peraltro voi avete tra i vostri vini principali, so che avete Sangiovese, un Trebbiano per quanto riguarda il bianco con il Malvasia, avete produzione di grechetto e anche di colorino, come si traduce appunto la natura del territorio che nel caso del Monte Subasio è un territorio particolarmente diciamo strutturato e anche sui generis, com'è possibile ritrovare questo territorio nel prodotto finale? Allora, il vino esce in pratica totalmente differente da un classico vino che trovi a Montefalco o che trovi ad Assisi o che trovi a Umbertide, questo perché? Perché giustamente l'altitudine dei vigneti porta a donare al vino in pratica più mineralità, più salinità, più acidità, quindi questi vini hanno un'acidità un po' più spiccata e quindi da lì ottengono dei flavor totalmente differenti, cosa che vanno a rendere unico questo vino, perché poi oltre a noi lì attorno al Subasio non c'è nessuno, quindi unici siete unici in certo senso. Mi piace fare un piccolo focus terminale per quanto riguarda le nuove tecnologie, molte cantine, anche di quelle presenti chiaramente a Duwain, fanno molta attenzione sul progresso, su tecniche di lavorazione e l'utilizzo di strumentazione tecnologica all'avanguardia per ottenere una monitorizzazione e anche un risultato che sia rispettoso dell'ambiente. All'interno della tenuta Baroni Campanino, quale di queste tecnologie abbiamo? Citane qualcuna per favore. Allora, noi avendo il proprietario della cantina che è anche un informatico che ha un'altra azienda di informatica che si chiama Informa Sistemi, a livello tecnologico è come se siamo avanti anni luce, quindi noi su ogni vigneto abbiamo delle telecamere 8K che ci fanno tutta la planimetria del terreno e da lì io so l'umidità, i millimetri di pioggia che ho, il calore del terreno, le zone più asciutte, le zone più bagnate, tutte le caratteristiche. Esatto. Oltre a questo, per quanto riguarda le fiere, ad esempio c'ho dei computer portatili con una bottiglia che gira, che va a spiegare poi dietro con uno schermo il territorio, da dove veniamo, cioè ci sono varie tecnologie che andiamo a utilizzare. Quindi una cantina proiettata più che sul presente verso il futuro. Grazie a Mattia Di Bartolo per essere stato con noi e buono wine. Grazie. Grazie.